Tezze sul Brenta organizza un torneo di calcio in memoria di Rocco Battistella e il Movimento 5 Stelle insorge. Aprendo non senza indignazione che anche quest'anno si sta organizzando a Tezze sul Brenta una manifestazione sportiva in memoria di un noto pregiudicato per gravissimi reati, Rocco Battistella, sono le parole del senatore pentastellato Cappelletti. Mi trovo a dover esprimere nuovamente la mia disapprovazione per la scelta di ricordare, nell'ambito di un evento sportivo, un condannato. Ai promotori di questa bella iniziativa, conclude Cappelletti, mi permetto di suggerire di dedicare il prossimo torneo al Magnate Svizzero, amministratore delegato della Eternit o all'amministratore della ThyssenKrupp, ritenendo di poter incontrare in tal modo la loro sensibilità.